Musica Netto successo del governatore uscente Luca Zai alle elezioni regionali Alessandra Moretti staccata di 27 punti Felice Cassone e Luigi Brugnaro si sfideranno al ballottaggio per la carica di sindaco di Venezia all'ex magistrato in vantaggio di una decina di punti Da Portogruaro a Dolo, da Cavallino Treporti a Torre di Mosto i risultati di tutti i comuni del veneziano al voto Un trolley abbandonato crea un nuovo allarme bomba a Venezia a fermare gli artificieri il precipitoso ritorno del proprietario Dopo la vittoria in gara 1 stasera la Reier replica al Taliercio contro Reggio Emilia per portarsi a più due nei playoff Buonasera da TG Venezia dunque il nostro telegiornale dedicato ai responsi della lunga domenica elettorale a partire da quello delle elezioni regionali chi ha visto la netta vittoria del presidente della regione uscente Luca Zaia Amoretti aveva detto vinciamo 7 a 0 e il Veneto sarà il golden goal Dall'apertura delle prime urne la partita è sembrata più essere quel Brasile-Germania finita 7 a 1 per i tedeschi agli ultimi mondiali non c'è stato match la candidata del PD è stata più una sparring partner che un vero e proprio avversario le percentuali parlano chiaro Zaia 50% Moretti 22,7 staccati praticamente insieme sul terzo gradino del podio il grillino Jacopo Berti e Flavio Tosi che sfiorano il 12% ringrazio i Veneti uno ad uno io ho sempre detto sarò il governatore di tutti l'ho dimostrato in questi 5 anni e penso che questo risultato che ne esce vada in questa direzione è stata premiata la mia imparzialità nell'approccio e io spero che sia stato premiato fino in fondo anche il nostro impegno amministrativo che è stato un impegno importante in un periodo non facile della storia di questa regione dell'Italia Tanto sì, noi abbiamo perso, abbiamo perso anche male per cui evidentemente su questo i numeri sono da questo punto di vista inconfutabili per cui per me è stata una partita straordinaria l'ho vissuta fin dall'inizio in maniera piena senza nessun tipo di riserve mi sono dedicata al mio territorio così come volevo sono ritornata in Veneto ho voluto conoscerlo in maniera importante qualcosa evidentemente non ha funzionato perché non è che ci possiamo dire che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane avremo modo, tempo e anche la lucidità secondo me per fare una riflessione complessiva in provincia di Venezia la lista Zaia fa il pieno di voti con il 23% delle preferenze primo partito il PD che raccoglie il 20% dietro la Lega al 15% per gli altri solo le briciole con Forza Italia che non arriva al 6% e la lista Tosi che si ferma al 3% record man di preferenze nel veneziano il sindaco di Musile Gianluca Forcolin che candidato con la Lega raccoglie 3951 voti personali e molta attesa c'era naturalmente anche per i risultati delle elezioni comunali a Venezia lo spoglio è cominciato solamente alle 14 andiamo a vedere i dati che sono ancora dati parziali si riferiscono a 163 sezioni su 256 ma oramai come vedete la tendenza è netta Felice Casson con il 38,16 dei voti e Luigi Brugnaro con il 28,38 dei voti si sfideranno al ballottaggio al terzo posto c'è Davide Scano del Movimento 5 Stelle con il 13% quindi Gianangelo Bellati con l'11 e il 94 Francesca Zaccariotto 6,45 Gianpietro Pizzo 0,85 Camilla Seibezzi 0,68 Alessandro Busetto 0,33 e Francesco Mario Delia 0,15 e allora andiamo a sentire a caldo le reazioni dei protagonisti a partire dai due candidati che si sfideranno al ballottaggio cominciamo con Felice Casson Primo commento a caldo così Siamo pronti per il ballottaggio Ma si aspettava questo risultato? Ho fatto un giorno e mezzo di riposo, di relax e quindi adesso si parte per il ballottaggio mi dispiace solo che Venezia debba aspettare altre due settimane per avere il sindaco Il ballottaggio è quella che è una vittoria o uno sconfitto? Il ballottaggio è il ballottaggio, si fa e basta E adesso cercherà l'alleanza e andrà avanti da solo? No, noi abbiamo il programma e quindi sulla base del programma chi vuole ci vota e chi non vuole fa meno C'è qualcosa che non ha funzionato? No, no, non è questo un problema vediamo alla fine i voti comunque il ballottaggio era nelle previsioni Ha chiamato Renzi? L'ha chiamata? No, è ancora finito lo scrutinio Un centro-destra che sommato è molto più pericoloso di quanto appariva la vigilia? No, ma non è questo c'è l'effetto del ciclone Zaia che è ovviamente impressionante però tra due settimane sarà un'altra cosa ovviamente Si aspettava magari che certi quartieri votassero per la... No, non so niente, arrivo adesso dalla montagna e non conosco neanche i dati quindi non so niente, sono andato a riposarmi per il ballottaggio Ah, quindi hai già preparato, diciamo, si aspettava? Io sono andato a fare il relax e adesso sono pronto Ecco, l'ha definito ciclone Zaia Però c'è appunto un'analisi completa da fare sul voto delle regionali Sì, beh, il voto delle regionali direi che ha dato una scoppola al Partito Democratico per primo e quindi quello è un dato molto rilevante e vedremo complessivamente un po' che cosa ci sarà Moretti era la candidata giusta secondo lei? Era la candidata che ha vinto le primarie Un risultato della Lega che a Venezia nessuno si aspettava Insomma, il traino di Zaia ha funzionato in questo senso? No, è un ciclone Zaia che è sicuramente molto forte non ha funzionato ovviamente a livello comunale fino in fondo però insomma si è fatto sentire nel dare alcune indicazioni di voto certamente Ma quel 10% che manca al 50% secondo lei a chi è andato? Il 10% che manca a chi? A lei Ma io non conosco i voti quindi non so come siano Quel video di Renzi con la Moretti secondo voi vi ha tolto voti? Renzi è venuto due volte a sostenere la Moretti c'erano dei pro e dei contro Si sono manifestati più i contro però direi Ma col seno di poi è facile ragionare bisogna vedere prima che valutazioni vengono fatte Preoccupato del fatto che Lega e Forza Italia No ma neanche un poco io sono pronto a fare il ballottaggio proprio non sono preoccupato di zero Perché insieme al momento avrebbero 24 punti Non conosco i voti quindi non lo so Ma prevedete di vincere o no a seconda turno? Il ballottaggio si fa per vincere mi pare ovvio E da Felice Cassone passiamo all'altro candidato al ballottaggio per essere eletto nuovo sindaco di Venezia Luigi Brugnano Ma non lo so penso che parlare con le persone e stare insieme a loro sia la cosa più importante questo è sempre stato nella mia vita e lo farò sempre ma perché io sono capace di fare solo questo non sono bravo a fare i piani le alleanze su questo effettivamente sono forse non è però sono capace di andare dritto al mio obiettivo quello sì mi sono prefigurato l'obiettivo di riprendere Venezia e farla diventare una città per tutti una grande città pulita che la gente possa trovare lavoro io non ho animosità contro nessuno l'unica cosa che ritengo in questo caso vada scelto è quello di scegliere il futuro il futuro per i più piccoli che non possono andare a votare quei ragazzi lì non hanno il lavoro e tante persone non trovano il lavoro questo del lavoro è un tema importante il lavoro è la sicurezza ovviamente che è l'altra faccia della stessa medaglia però è una città normale io vorrei che Venezia fosse una città normale però stiamo parlando di una città che può parlare e dialogare tranquillamente con Berlino con Bosto con le grandi capitali del mondo ecco io immagino che le persone a Venezia tutte si sentano parteci di questo progetto l'unica cosa che appunto secondo me ha creato grossi problemi negli ultimi 20 anni è questo partito del no è il partito del no a tutto questa gente qua secondo me è bene che vada in panchina che adesso rifletta un po' chi vuole vivere senza lavorare non trova in me un alleato chi pensa di aprire le moschee di nascosto purtroppo io sono una grande barriera per questa gente qua chi vuole fare le cose di nascosto brutte, la droga, la violenza ecco io su questo impegno la mia vita l'ho sempre fatto per me la legalità e l'onestà vengono al primo posto per cui il lavoro e chiunque lavora sa che il lavoro è onesto e solo chi vive del proprio lavoro chiunque, qualsiasi sia il lavoro privato, pubblico dipende quello è il leitmotiv di Venezia e Venezia tornerà a essere una grande capitale del mondo di questo sono certo e mi sembra che anche i cittadini cominciano a crederci perché questa è una città di gente meravigliosa meravigliosa è il terzo candidato ad aver ottenuto più voti in queste elezioni Davide Scano del Movimento 5 Stelle naturalmente non parteciperà al ballottaggio ma la domanda è inevitabile con chi si schiererà il Movimento 5 Stelle al secondo turno? ma intanto il risultato è positivo perché comunque pare che siamo terzi dopo Cassone e Brugnaro la concorrenza era spietata e quindi con i nostri pochi mezzi abbiamo fatto un bel risultato quindi presumibilmente avremo 4 consiglieri in Consiglio Comunale con cui ovviamente controllare l'operato di chi amministrerà e anche proporre i nostri temi insomma quindi già è positivo e faccio un primo ringraziamento ovviamente a tutti i cittadini che hanno voluto darci fiducia Sentivamo prima un paio di consiglieri della lista Cassone non tra quelli che abbiamo intervistato i nomi non li faremo ma che tra il serio e il facetto parlano tra di loro dicevano adesso cosa dobbiamo offrire cosa possiamo offrire a Scano per convincere ad allearsi con noi Ma sinceramente non c'è niente da offrirmi né a me né al gruppo del Movimento 5 Stelle il Movimento 5 Stelle non fa alleanze e non le farà ovviamente non le ha fatte in nessuna parte d'Italia non le farà neanche a Venezia e noi valuteremo quello che potremo fare in questi giorni di ballottaggio eventualmente proponendo dei temi che ci stanno a cuore e quindi lanciando questi temi ai due contendenti diciamo nel ballottaggio posso dire però una cosa già ora mi lascia molto perplesso che già un 40% circa di popolazione abbia espresso un giudizio positivo sull'operato degli ultimi 25 anni sinceramente avrei reputato che centrosinistra forse non doveva neppure candidarsi alle elezioni visto che li avevano arrestato il sindaco si sono presentati e appunto pare che poco meno del 40% della popolazione al voto abbia espresso comunque un giudizio di fiducia e quindi un giudizio anche di positivo verso l'operato E al ballottaggio si andrà quasi sicuramente anche a Portogruaro qui i dati che possiamo fornirvi sono estremamente parziali come vedete sono solamente 4 sezioni scrutinate su 27 le operazioni di spoglio procedono quindi a rilento in testa c'è Marco Terenzi del Partito Democratico con il 35,98% sostenuto anche da Città Futura lista Rosso Verde Portogruaro 2020 città per l'uomo Maria Teresa Senatore con Lega Nord Forza Italia e altre liste civiche al 15,98% Giorgio Barro al 14,97% Paolo Scarpa Bonazza al 12,69% Claudio Fagotto 7,21% Luigi Toffolo 5,93% Pietro Rambuschi 2,64% Gastone Mascarina 2,10% Maria Luisa Venturin 1,27% Lorenzo Tummino 1,18% Passiamo ora a Dolo dove invece il dato è definitivo a vincere è Alberto Polo di Dolo Democratica col 30,03% seguono Antonio Di Luzio della Lega Nord 23,86% Valentina Peruzzo del Movimento 5 Stelle 14,63% il sindaco uscente Maria Maddalena Gottardo con Gottardo Sindaco 10,37% Elisabetta Ballin di Lista Civica a Dolo e Tua 8,7% Giorgio J il Ponte di Dolo 7,66% Marco Cagnin della Lista Civica a Dolo del Fari al 4,72% andiamo a vedere anche i risultati di Cavallino Treporti il nuovo sindaco il nuovo sindaco è Roberta Nesto 33,43% dei voti col patto civico Cavallino Treporti Claudio Razio di Idea Comune per Cavallino Treporti 28,9% quindi Angelo Zanella 27,34% Stefano De Marchi 5,73% Stefano Ragazzi 2,29% andiamo a vedere anche un altro comune al voto quello di Torre di Mosto anche qua il risultato è definitivo il nuovo sindaco è Giannino Geretto che si è giudicato il 45,26% dei voti l'ex sindaco Camillo Paludetto si è fermato al 44,68% quindi è stato un arrivo al fotofinish Cristian Zuliana del Movimento 5 Stelle 10,04% abbandoniamo la pagina della politica e passiamo alla cronaca dopo Rialto e San Marco un altro trolley abbandonato ha creato allarme questa volta nella zona di Piazzale Roma una valigia abbandonata in fondamento a Santa Lucia a qualche decina di metri dalla pontilla della CTV ha infatti fatto scattare come da protocollo l'allarme bomba con l'intervento di polizia artificieri e agenti della polizia municipale e la chiusura del tratto di strada interessato un falso allarme che si è rivelato poi tale con l'arrivo del proprietario del trolley ed ora altre notizie in breve dal veneziano Iesolo tragedia domenica poco dopo mezzogiorno nel campo sportivo all'altezza di Piazza Nember al termine di una partita amatoriale di calcio mentre le squadre si recavano negli spogliatoi un uomo di 51 anni si è accasciato sull'erba colto da un malore forse un arresto cardiaco le prime manovre di soccorso sono state praticate da una coppia che passava di lì per caso un medico e un'infermiera che hanno tentato la rianimazione ma è stato tutto inutile l'uomo non ce l'ha fatta Sandonà di Piave alcol a fiumi durante una festa in un locale notturno una 14enne è stata accompagnata d'urgenza in pronto soccorso a causa di un malore insieme ad altri coetanei la ragazza era completamente ubriaca ed è stata subito ricoverata gli altri tre avevano un tasso alcolico compreso tra 2 e 2,5 birra superalcolici vodka in particolare forse anche qualche stupefacente ma saranno le analisi a stabilirlo con precisione Caorle non ce l'ha fatta dopo alcune ore di agonia è morto nella notte e insomma mente il motociclista 66enne che sabato pomeriggio era stato coinvolto in un incidente stradale l'uomo proprietario di una pizzeria al taglio a Porto Santa Margherita era a bordo del suo scooter quando per cause ancora in fase di accertamento si è scontrato con l'auto guidata da un'anziano che stava svoltando è morto dopo essere stato trasportato all'ospedale con l'elicottero la sua caduta sull'asfalto da subito aveva provocato forti traumi un motoscafo usato illecitamente come taxi dalla documentazione risultava adibito a noleggio è stato posto sotto sequestro dalla guardia di finanza di Venezia il conducente è stato multato in questi mesi sono state diverse le imbarcazioni sanzionate dalle fiamme gialle perché illecitamente impiegate come taxi è finita con un ferito ricoverato all'ospedale l'arrivo della polizia una lite in famiglia tra suocero e genero a Musile di Piave la discussione tra i due è degenerata è passata dalle parole ai fatti ad avere la peggio il suocero colpito da un colpo di badile alla testa che è dovuto ricorrere alle cure del caso in ospedale dove è stato trasportato in ambulanza toccherà ora la polizia intervenuta sul posto chiarire con esattezza la dinamica dell'episodio siamo allo sport il basket l'umana Venezia si è imposta su Reggio Emilia 87 a 70 nella gara 1 delle semifinali dei playoff scudetto al di là del risultato finale è stata una partita piuttosto equilibrata fino al terzo quarto la gara 2 dei playoff è in programma questa sera al Tagliercio e per l'Euro Granata al debutto assoluto a questi livelli nel campionato un'occasione d'oro per passare a più 2 con questo per ora da Venezia è tutto vi ricordo l'appuntamento con la politica su Rete Veneta focus in diretta a partire dalle 21.05 per continuare a parlare del voto di questa domenica sia per quello che riguarda le elezioni regionali che naturalmente anche per Venezia grazie dell'attenzione buonasera a partire